Abbiamo visto film, serie tv, singole puntate, anime, cartoni animati messi al bando, ma torniamo alle basi. Che cos'è che va bruciato per primo? Il libro! Benvenuti su Watchmen Italia per una top 10 di libri che sono stati banditi in varie parti del mondo per, ovviamente, le ragioni più deliranti. Questo non che altre ragioni siano buone per bandire un libro, però questi casi sono perfino oltre questi ragionamenti. Alla numero 10 incominciamo con Where is Waldo. Sì, avete presente, no? Quei libri in cui, insomma, devi trovare Waldo, perché Where is Waldo è tu, è Irris Waldo. E chi per lui? Poi ce ne sono 10.000 versioni diverse. A Natale, per esempio, un mio amico me ne ha regalato uno in cui devi trovare Ciubecca, ecco. Però sono sempre personaggi in mezzo a un mucchio di altri personaggi, tutti appiccicati in grossi e bei disegni. Sembra molto pericoloso, vero? Chissà cosa troveranno i bimbi in quelle illustrazioni. Di sicuro non Waldo, considerando che è praticamente impossibile. E in effetti, voi immaginate, il tempo impiegato per, nell'87, riuscire a trovare una parte microscopica del volumetto originale in cui appariva una ragazza in spiaggia con il costume lievemente spostato. Purtroppo non ho l'immagine, ma immaginate. Rivelando quello che solo con una lente di ingrandimento potevi capire fosse un capezzolo. Ma gli Stati Uniti, lo zio Sam, non perdonano. Tutto vedono, tutto sanno e tutto bandiscono. E alla numero 9, Mattatoio numero 5, uno dei libri più famosi dello zio Kurt Vonnegut, grande scrittore tra anni 60 e 70, solo che scriveva di una cosa un po' pericolosa, la cosiddetta fantascienza, che nelle sue forme più distopiche parla del nostro mondo e la cosa non è che sconfinferi molto, come vedremo anche poi. Fu bandito però da una decina di Stati, non per il suo sottotesto, ma per la semplice presenza di molte parolacce, il fatto che si menzionasse la religione. Una cosa non bella da fare, soprattutto se si dicono anche così tante parolacce. Eh? Poi nell'82 la Corte Suprema intervenne dicendo che non si poteva bandire un libro perché semplicemente non ti piaceva come era scritto, ma ad oggi ancora molti Stati lo tolcono dagli scaffali, pensate. E alla numero 8, professione spia. Ah, avete presente quei libri innocenti per ragazzi di sole buone intenzioni che leggevi a 9-10 anni? Non per gli Stati Uniti! Che hanno la capacità quasi naturale di scovare il grande Satana, anche nei posti più impensabili, ed è giusto così! Egli ci tenta anche nelle avventure di una bimba delle medie che gioca a fare la spia con i suoi amici scontrandosi con il gruppetto rivale e la prof, perché secondo varie contede lo aglio che lo bandirono tra il 60 e il 70, spingeva i bimbi a comportamenti luciferini, come la menzogna, l'inganno e il fingersi qualcun altro, e ciò metteva in pericolo le fondamenta stesse della società americana. Giusto! E alla numero 7, il diario di Anna Frank. Non devo starvi a presentare, no? Questo libro diario, scritto dalla ragazzina in Olanda mentre si nascondeva dalle rettate naziste, pubblicato postumo perché appunto Anna morì nel 45, dopo che il nascondiglio di lei e altri sette fu mostrato alla Gestapo da una persona che ad oggi non è stata ancora identificata. Capirete che non ci sono molti altri resoconti storici migliori di uno scritto da chi ha vissuto sulla sua pelle fino all'ultimo, gli orrori della guerra, del genocidio e del nazismo. Non è che ci sia nulla di particolare da ridere, ovviamente, ed è infatti il motivo per cui nell'83 lo stato dell'Alabama lo mise al bando dalle scuole. Perché? Troppo deprimente. E alla numero 6, Alice nel paese delle meraviglie. Oh, stavolta cambiamo paese, lo so, era semplice, vero? Pensavate che fosse stato bandito tipo negli Stati Uniti perché lo stregatto, il brocalifo e il cappellaio sono chiaramente dei super strafattoni colossali e spingono a calarsi acidi a colazione. Anche quello, però, sono migliori i motivi della Cina in questo caso, alla quale due decenni dopo, sempre sul pezzo, eh, la Cina, Non piacque che conigli, gatti e altri animali parlassero perché ciò li rendeva simili agli uomini e pensare che l'uomo e l'animale siano sullo stesso piano è inaccettabile. Ma come scusate? Ma mi sembra un pochino ipocrita come cosa. Il vostro presidente è un orsetto giallo. E alla numero 5, il signore delle mosche, bellissimo di William Golding, su questo gruppetto di ragazzini in tempo di guerra che inizialmente vivono normalmente in un posto non toccato dalla violenza ma abbandonati a se stessi, anche loro. Più innocenti tra gli innocenti si lasciano andare alla fine alla barbarie nel tentativo di ricreare una parvenza di società. Tristemente vero dal punto di vista degli impulsi più bassi del genere umano perché in fondo, molti di noi, parliamoci chiaro, privati dei freni sociali si rivelerebbero animali. E la cosa non piacque alla Cina sempre. No, stavolta al North Carolina che lo bandì dicendone è vero non siamo animali, siamo tutti figli di Dio. Mai faremmo queste cose. Ne sei sicuro, North Carolina? Va bene. E alla numero 4, 1984. Scritto, come sapete, non nell'84 ma nel 48 da Orwell, libro dei libri per quanto riguarda il terrore molto moderno anche di una società dal controllo pervasivo sulla sua popolazione. Devo dire che anche che una società che mette al bando 1984 ha un che di grottesco, ma siamo tipo dei tipetti molto pittoreschi noi terrestri. E quindi ovviamente dopo la sua traduzione in russo, i russi si accorsero di che parlava e lo misero al bando in un secondo vedendoci una critica al paese e a Stalin. E in Florida invece varie contei lo bandirono perché chiaramente inneggiava al comunismo. E come scusate? Oh, decidetevi, ho uno lato. E alla numero 3, Fahrenheit 451 del buon Ray Bradbury, che cantava del corpo elettrico e anche di orrori distopici che, come al solito, come dicono i veri pro, hanno sempre triggerato un po' tutti quanti. Anche qui devo dire che mettere al bando un libro in cui si parla di mettere al bando libri e dargli fuoco è un'azione così perfettamente meta a tutto, così intrinsecamente ricca di involontaria autoironia che non puoi che essere felice da un certo punto di vista che sia successo davvero. Cioè, quanto puoi essere idiota quanto molti stati del centro nord-ovest americano che lo bandirono perché nel libro, tra i libri bruciati, c'era anche la Bibbia e la Bibbia non si può bruciare. Va bene. E alla numero 2, Harry Potter e la pietra filosofale. Già sento puzze di signor diavolo di come tra queste sozze pagine pregne di vili sortilegi e immonda fattuccheria lo demonio agisca sulle giovani menti tramite la penna di una delle sue emanazioni sulla terra più potenti, l'infida Joanna K. Rolinghi. E infatti è così. O almeno è così che pensarono molti gruppi religiosi in particolare nel sud-est asiatico in cui credo che il libro sia ancora fuori legge in vari stati perché appunto spronava l'utilizzo delle arti oscure a voler diventare un mago o una strega. È vero? Io aspetto ancora la mia dannatissima letterina da 17 anni! E alla numero 1, Il buio oltre la siepe di Harper Lee se posso consigliarvi uno dei libri più belli di sempre con annesso film tratto da queste pagine che è uno dei film più belli di sempre con uno strepitoso Gregory Peck nei panni di Atticus l'avvocato che dovrà difendere dalle ingiuste accuse di stampo razzista un giovane nero in una cittadina dell'Alabama in anni di linciaggi e violenze disumane. Libro bandito o censurato per anni in molti degli Stati Uniti perché tra le sue pagine c'era troppe volte scritta la parola negro. E questo linguaggio violento e razzista era inaccettabile visto che il pubblico nero, sì, disse proprio questo, avrebbe potuto trovarlo molto offensivo. Ma il libro parla appunto di quelli... Sto... Sento che i miei neuroni si stanno spegnendo... Sento che i miei neuroni si stanno spegnendo...